Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo pomeriggio culturale promosso dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, come sapete questa è un'istituzione tanto cara alla nostra comunità, nata nel 2008 e diretta dal professor Gianni Oliva, saluto anche la Presidente e i consiglieri amministrazioni del polo culturale della città del Vasto. Tenevamo tanto a questo incontro, abbiamo approfittato del passaggio del professor Cacciari nella nostra terra ad Abruzzo, un incontro che a mio parere segnerà per tanti di noi un pomeriggio di vera cultura, tutti conosciamo la personalità del professor Cacciari e i suoi interventi sono sempre pleni di una visione critica della realtà. Io credo che il tema scelto, scelto abbondantemente prima dei recenti fatti di cronaca, siano per noi l'occasione giusta per focalizzare l'attenzione sull'alterità, sulla diversità, sull'incontro e l'inclusione tra culture. È un messaggio che come vediamo è attualissimo e io non mi stancherò mai di ringraziare per questa opportunità sia il professor Oliva ma anche il professor Tolone che ci accompagnerà in questo dibattito e intervista. Con questi sentimenti di gratitudine per ciascuno di voi e per quanti ci seguono anche in diretta streaming passo la parola al sindaco di Vasto, Francesco Mena per un saluto istituzionale. Grazie. Io solo per aggiungere qualche ringraziamento all'intervento dell'emozionatissimo assessore che oggi fa il compleanno e si è voluto fare un bel regalo facendo venire uno dei maggiori intellettuali che ci sono, il professor Cacciari. Grazie a lui e a loro, grazie alla professoressa Orsatti che ci ospita, la preside di questo istituto, a Dina Caringi che è la segretaria amministrativa di queste scuole, un nostro bravissimo consigliere comunale. Saluto naturalmente tutti voi gli assessori, poi professore aggiungo solo che sono venuti da diverse parti, non solo dall'Abruzzo, c'è anche una signora che è venuta da Firenze, la signora Anna che è una sua stimatrice, quattro ore di treno per venire e quattro per tornare. Quindi grazie per essere qui, buon convegno e viva la filosofia che ci aiuta. Mi sentite? Buonasera, io sono qui solamente per dire due parole, non di più, solo di saluto da parte del Centro Europeo di Studi Rossettiani che organizza una serie di eventi tra cui questo e siamo veramente orgogliosi di avere con noi questa sera il professor Massimo Cacciari che tutti conoscete, oltretutto su un tema che è di questi giorni in qualche modo. Devo dire però a onor del vero che questo argomento era stato stabilito con molto anticipo, addirittura forse per la metà di settembre quando concordavamo insomma la data della venuta di professor Cacciari qui a Vasto e lui ha scelto questo tema che era la religione e la guerra, tema ampio, sostanzioso eccetera eccetera, che però non prevedeva e non poteva prevedere quello che è successo anche nelle settimane successive. Certo l'argomento è vasto e complesso ed è in qualche modo anche contraddittorio in sé, cioè il fatto che ci sia una guerra con la religione e la religione è la guerra. La religione dovrebbe essere naturalmente l'alveo in cui matura la pace tutto sommato, questo è un principio che appartiene non solo alla religione, sostanzialmente all'aspetto cristiano, ma direi anche al razionalismo illuministico, parlava di questo insomma, quindi è un argomento veramente con grandi sfaccettature. Quello che mi preme rilevare è che in questa nostra società, sarò brevissimo, è stato cancellato un termine che è stato cancellato dal lessico politico, direi dopo anche da quello civile purtroppo, ed è il termine fratello, questo termine non si sente più, siamo tutti democratici, liberali, diciamo antifascisti, eccetera, eccetera, ma il termine fratello non ci appartiene più. E invece è importante, perché frater nel latino è praticamente frater fere alter, cioè praticamente porta se stesso, cioè la fratellanza è molto più importante della cittadinanza, cioè essere cittadino è importante, ma essere fratello è ancora più importante. E addirittura direi è più importante che essere uomo fratello. Fratello non intendo naturalmente solo la consanguinità, anche perché la consanguinità molte volte porta diciamo a dei dissidi anche atroci, ma essere fratello significa appartenere, in qualche modo avere una relazione, un contesto in cui certi valori vengono maturati e condivisi. Pensate non solo alle confraternite, si chiamano così perché ci sono persone che credono negli stessi valori cristiani e così via. Quindi fratello è qualche cosa di importante e quindi se questo è il principio, pensate quanto è contraddittorio questo argomento, cioè che ci sono persone che credono in qualche cosa, credono nella pace, credono nella sorveglianza dei sensi e nello stesso tempo litigano tra di loro, cioè fanno guerra l'uno all'altro. Questo diciamo è veramente un problema importante da snocciolare. Certo quello che sta succedendo in questi giorni in qualche modo c'entra poco con quello che dovevamo dire fin dall'inizio, cioè l'argomento generale della religione è la guerra. Però certamente non possiamo in qualche modo non sentire che quello che sta succedendo rischia in qualche modo di diventare una guerra tra civiltà, il che sarebbe un vero e proprio disastro per il mondo. Io devo soprattutto ringraziare il professor Tolone che è fatto da intermediario per questa conversazione, una lezione che ci terrà il professor Cacciari. E quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie professor Oliva. Io mi limito a ringraziare appunto perché effettivamente io semplicemente ho fatto da mediatore ho approfittato della generosa presenza del professor Cacciari in Abruzzo in questi due giorni per consentire a più persone possibile di ascoltarlo perché lui è stato ieri nell'università di Chieti dove ha tenuto una lezione sul suo ultimo libro che è appena uscito e adesso farò un breve cenno. E stamattina siamo stati invece a Sulmona dove ha incontrato in una anche bellissima mattinata gli studenti dei due poli della città e da Sulmona siamo venuti qui oggi pomeriggio. Quindi come dire, il professor Cacciari si presta, quando si parla di filosofia, si presta a mettersi in gioco anche in prima persona e quindi lo ringrazio molto per questi due giorni molto intensi ma anche molto produttivi e sono sicuro che anche oggi pomeriggio sarà una giornata di questo genere. Ringrazio intanto dell'invito Gianni Oliva come rappresentanza della fondazione Gabriele Rossetti, il comune, gli amministratori, il sindaco, l'assessore della cultura che ci hanno gentilmente ospitato e anche la scuola in questa bella aula magna, non è facile trovare belle aule magne nelle scuole, anzi, e invece devo dire che è molto accogliente e quindi siamo contenti. Io mi limito, non cederò semplicemente la parola al professore per ascoltare insieme e poi al limite se ci sarà un dibattito regolerò, semplicemente raccoglierò le domande. Prima di passare la parola, è sempre difficile parlare prima del professor Cacciari, quindi ho imparato che essere brevi è fondamentale. Solo per dire che appunto parlando del suo ultimo, di questo libro che è uscito ieri, edito con la Delphi, dal titolo Metafisica concreta, insomma abbiamo imparato a coniugare termini molto distanti tra di loro, appunto metafisica, concretezza, la strazione e la realtà. E anche, si è parlato essenzialmente di filosofia e di scienza, però anche a proposito della religione ci ritroviamo nello stesso dilemma direi. La religione è qualcosa che da un lato unisce, come dice la parola stessa, lega, tiene insieme, quasi richiama l'idea di un logos che in qualche modo si rapporta, però come diceva ad esempio Antiseri, un altro filosofo che tutti un po' conosciamo, nella religione noi ci accorgiamo di come le idee così apparentemente astratte possano trasformarsi nella cosa più concreta, anche terribilmente concreta che esiste. Cioè come le idee, ad esempio l'idea delle diverse religioni, le idee che si incardidano e si radicalizzano possano diventare degli strumenti che a dispetto della relazione che tiene insieme, della relazione che unisce, come diceva il professor Oliva, può diventare invece un'idea che si cristallizza e diventa elemento di scontro e noi lo vediamo quotidianamente. Anche l'altra volta che il professor Cacciari venne l'anno scorso all'Università di Chieti, anche in quel caso avevamo programmato di fare un incontro sulla geopolitica dell'Europa e dopo scoppiò improvvisamente poi la questione della relazione. Non so se sono io che porto sfiga ma non lo volevo dire però effettivamente forse, taccio, taccio, forse sono io e allora mi ritiro con la coda fra le gambe però effettivamente oppure semplicemente stiamo vivendo una fase veramente traumatica a livello globale per cui le sorprese sono all'ordine del giorno. Il tema è cruciale, è vasto, siamo qui quindi è vasto per forza e quindi il professor Cacciari sono sicuro che ci darà delle idee molto interessanti sul modo in cui la religione e la guerra siano strettamente collegate tra di loro ma come la storia lo è di fatto. Quindi io vi ringrazio e ringrazio per l'ultima volta il professor Cacciari gli cedo la parola. Grazie. Ringrazio tutti e andiamo in media stress. Se siete d'accordo io farei un'introduzione la più breve possibile, molto generale, proprio di inquadramento generale provocando alcuni interrogativi e poi dibattiamo anche perché è evidente che molti di voi saranno interessati anche a discutere in termini non di cronaca, non di fuggevoli immagini le tragedie che viviamo. È del tutto naturale che sia così e sarebbe ipocrita nascondersi. Però io vorrei cominciare da un quadro storico, teorico più generale sul quale forse è abbastanza facile essere d'accordo ma non forse altrettanto noto nei suoi termini. partirei da molto lontano a proposito di questo rapporto guerra-religione. La nostra civiltà, il primo testo che abbiamo della nostra civiltà racconta di una guerra. Non è cosa da poco. I primi testi della civiltà indiana non raccontano di guerre. Più tardi, in Marabat, eccetera, c'ha anche le guerre. Ma il nostro primo testo scritto trasmesso, su cui i greci imparavano a leggere e scrivere, è l'Iliade, è l'Odissea. E l'Iliade tratta di una guerra. Ma guarda che strano. È una guerra in cui la religione è dovunque ma non c'entra nulla. non spiega, non dà nessun motivo alla guerra. Cioè non è, è l'opposto di una guerra di religione. Troiani e greci, o meglio dire Achei, eccetera, eccetera, hanno gli stessi dei, gli stessi dei. si riconoscono reciprocamente. Zeus, il sommo Dio, sarebbe, diciamo, favorevole a Troia, no? Lo stesso Zeus dice che Troia è il re sacra, sacra, il primo Zeus. la difende, cerca di difenderla, poi ha anche la necessità che sobrasta dei e uomini aveva deciso la fine e la rovina di Troia. Ma tra Troiani e Achei, vi sono gli stessi dei, i motivi della guerra non hanno nulla a che fare. bene, se spegnete i telefonini è meglio, non è il mio, perché di solito è il mio che suona, no? Pare di no. Achei e i greci hanno gli stessi dei, no? Il motivo della guerra non ha nulla a che fare con la religione, il motivo della guerra è un'offesa, una vendetta, no? Poi i greci discuteranno se è vera quella motivo, se è un altro. Comunque è l'inizio di un dissidio, diciamo, tra Asia e Europa, ma Tucidi dice che non è vero o niente, Erodotone dubita, anche perché è evidente che appunto non vi è, i troiani non sono barbari. Gli stranieri, barbari in greco, voi sapete, non ha alcun significato spregiativo. Barbaro è semplicemente colui che non parla la mia lingua e che non riesco a intendere. Poi via via assume il significato negativo che ha per noi, ma l'origine non ha. In Omero comunque il termine barbaro non c'è, non c'è, perché i troiani non sono barbari, non sono sentiti come barbari e Omero non li descrive affatto come barbari, affatto. E potrei continuare con esempi molto pertinenti a questo popolito. Quindi la nostra primo testo riguarda una guerra, una guerra assoluta, perché è una guerra che finisce con la rovina di uno dei nemici, la totale rovina di uno dei nemici. Troia non risorgerà più per i greci, no? Non risorgerà più. Eppure la religione, nello spiegare questa guerra, non c'entra assolutamente niente. Niente. Sono religiosi troiani e achei allo stesso titolo e nei confronti degli stessi dei. Gli dei parteggiano per gli uni o per gli altri, va bene, certo c'è questo conflitto intradivino, le timai divine, le regioni del divino sono distinte, ma questo non spiega che alcuni stiano da una parte e gli altri dall'altra e ci siano due sfere separate del divino, neanche un po'. Infatti quando confliggono tra di loro gli dei, poi alla fine si mettono sempre d'accordo. Ovvio. Quindi non è che è un conflitto intradivino assoluto che provoca una guerra assoluta. Strano questo, no? Il motivo della guerra è politico, il motivo della guerra è vendicare un'offesa, il motivo della guerra è totalmente laico. I greci poi distinguono due tipi di guerra fondamentalmente e anche qui non c'entra nulla il motivo propriamente religioso e questo vale altrettanto per i romani. cioè quale? La guerra come polemos, dice già Platone ma riprendendo tutta una tradizione, cioè la guerra che io conduco contro il barbaro, la guerra con il barbaro. Barbaro, ripeto, nessun significato spregiativo, con lo straniero, con quello che non parla la mia lingua, che non ha la mia tradizione, che non ha i miei dei, anche se i suoi dei sono sempre traducibili in qualche modo con i miei, no? Perché questa è sempre l'operazione che fa il greco e che poi farà il romano. Quel dio lì, che ha un altro nome, barbaro, tuttavia è traducibile al mio dio. Riesco a fare questa traduzione. Ma comunque il barbaro, con il barbaro vi è polemos. Il polemos può essere un polemos assoluto, come quello dei greci contro i troiani, oppure no. Ma comunque è polemos. E anche qui non vi è un motivo religioso. Nessun greco, nessun romano si sogna di fare la guerra o un altro per motivi religiosi, assolutamente. Quando si presentano i romani di fronte al muro, alle mura della città nemica, cosa? Ma li dicono gli dei? Ma neanche un po', dicono dei, venite da me. Non vedete che sono più forte del popolo che vi ospita? Venite, vi accolgo. Non vi è nessuna lotta religiosa. Niente di simile, assolutamente niente. Questo è importante ricordarlo, perché è cultura nostra, non sto parlando degli indiani o degli australiani o degli assiri. Sto parlando di noi, sto parlando di greci e di romani. Dove sta il motivo religioso? Roma fa la guerra per motivi politici, per motivi di potenza politica. E non se la prende assolutamente con la religione dell'altro. Anzi, cerca di assimilarla a sé. Evocare Deus, dicono i romani. È un rito che il romano deve sempre fare prima dell'assalto finale. Prima dell'assalto finale, il pontefice, o i suoi, diciamo così, ministri, di fronte al nemico, devono, i comandanti, fare l'evocazio. Se no non è lecita, è nefas l'assalto. Devono dire, religione, dei, venite qui, venite dalla mia parte. Io vi accoglierò, vi erigerò templi, vi custodirò meglio di come vi hanno custodito questo popolo. Vedete che male che vi ha custodito questo popolo? Che sta per essere assalito e distrutto? Vi ha custodito malissimo. Venite da me che vi custodirò bene. Questa è, capite, cioè è importante questo. Quindi, questa con i barbari. E poi c'è la stasis. Questo è il polemos, che non ha nessun motivo religioso. E poi c'è la stasis, che noi traduciamo malamente guerra civile. Il termine stasis, istemi, eccetera, dovrebbe essere tradotto letteralmente sollevazione. Anastasi è la risurrezione, no? Stasis è la insurrezione. Dentro la città una parte politica insorge, si solleva per rovesciare il regime. Ed è la guerra civile. Stasis. Per Platone e poi per tutta la letteratura, gran parte della letteratura europea, politica, filosofica successiva, fino all'Ottocento, la stasis, la guerra civile, è nefas, è nefandum. Perché uccidi i fratelli. Ed è nefandum. Però c'è, c'è la guerra civile, c'è. Uno dei grandi poemi latini è appunto il bellum civile, di Stazio, che racconta appunto la guerra civile tra Pompeo e Cesare. Un bellissimo poema, che non si legge purtroppo, perché si legge solo l'Eneide, ma è uno dei grandi poemi, che ha avuto un'influenza enorme nella letteratura europea successiva, Stazio. Proprio perché è un grande poema barocco, Stazio. Ed è scritto il nefas della guerra civile. Orrenda, bella, sono le guerre civili. Orrenda. Nefas. Voi sapete che il diritto romano è diviso tra un diritto civile e un diritto religioso. Un diritto religioso riguarda il Fas, e il diritto civile riguarda lo Ius. Lo Ius riguarda il diritto, come noi diciamo, e il diritto civile, umano, riguarda i nostri affari. E poi c'è il diritto divino, che è l'ambito del Fas e del Nefas. Quindi è nefandum. La guerra civile è nefanda. Anche se in generale la guerra è nefanda, perché la guerra è sempre viola, l'assassinio che commette in guerra, l'omicidio letteralmente che commette in guerra è qualcosa di nefandum. Infatti Virgilio aggettiva sempre, spesso con nefandum, il bellum in generale, la guerra in generale. Però nefandum per eccellenza è la guerra civile. Ma anche qui non c'è nessun motivo religioso. Nessun motivo religioso. perché i fratelli appartengono allo stesso genus, allo stesso genere, alla stessa religione, e si ammazzano tra di loro, senza assolutamente che subente una motivo religione. Tra Cesare e Casso, tra Cesare e Pompeo, non c'è nessuna distanza dal punto di vista della fede religiosa. sono romani tutti e due, tutti e due credono firmamente poi nell'unico Dio che ha Roma, che è Roma, perché il vero Dio che hanno i romani è Roma, e non c'è nessun motivo di dissidio religioso. È importantissimo capire questo, perché noi apparteniamo, l'Europa appartiene anche a questa tradizione. non sta nelle radici della nostra tradizione il tema della guerra religiosa. Non è alle radici di questa tradizione il tema della guerra religiosa. La guerra religiosa è un problema che entra nella nostra civiltà, che lo si voglia o che non lo si voglia, con l'ebraismo. Possiamo discutere finché vogliamo, ma è così, fattualmente è così. Non c'è motivo di guerra, neanche la guerra contro i barbari, ripeto, ha motivi di carattere religioso. E nell'ebraismo che c'è una guerra che ha un carattere religioso. Naturalmente, la cosa è estremamente più complessa, perché non è che sia una religione bellica, quella ebraica, neanche un po', sono straabbondanti nella Bibbia le testimonianze anche che riguardano l'ospitalità, la fratellanza, eccetera. Ma c'è anche la guerra del Signore. E se può cosa fare? Non si può nascondere. Come si fa a nascondere? Come si fa a occultare? Sarebbe impietoso adesso fare citazioni a testimonianza della guerra del Signore. Chiunque lega la Bibbia, l'abbia letta, ha incontrato questo grande scandalo, nel senso letterale del termine, impedimento, ostacolo. Com'è che è possibile? Che il Signore dica, va, sgozza, uccidi, massacra a suo nome. Però è scritto, e allora o noi, come dire, censuriamo la Bibbia, i libri della Bibbia, soprattutto alcuni passi, alcuni momenti, oppure dobbiamo sopportare questo scandalo, affrontarlo. noi, ma è lo scandalo che affronta Gesù Cristo, se permettete. Eh, che cosa fa questa figura se non appunto dire è stato detto, ma io vi dico? E questo vale anche per questo argomento che stiamo affrontando. È stato detto che vi sono guerre giuste. È stato detto che vi sono guerre giuste. e io vi dico, no, non ce ne sono. È così o non è così? Eh, questo, questo è il punto. È stato detto occhio per occhio, eccetera, e io vi dico, porci l'altra guancia. È stato detto e io vi dico, ama il nemico. È stato detto, ma in quel ma, e riguarda, riguarda queste testimonianze bibliche, a che cosa si riferiva Gesù quando diceva vi è stato detto? Chi aveva detto? I suoi, i suoi predecessori avevano detto, avevano detto, quelli che hanno scritto quei libri avevano detto, ma io vi dico, o no? Perché qui è tutta un'interpretazione edulcorata, è tutto un'esegesi che va in cerca, appunto, sofistica, che non affronta, che non prende il toro per le corna. Quel ma, io vi dico, è un rovesciamento, ma scherziamo, è un rovesciamento, ma io vi dico, ma io vi dico, non vi sono guerre giuste, ma io vi dico, il mio padre non vuole la guerra in generale, non vuole, non attribuiteli alcuna volontà di guerra, alcuna volontà di nemicizia, il mio padre dice, porzi l'altra guancia, il mio padre dice, ama chi ti odia, questo dice mio padre, vi sembra che sia una questione da mettere in continuità con quello che è stato detto prima? Quella Allah, Allah, non Allah, Allah in greco, nel testo greco, ma, io vi dico, quel Allah, ma in greco, nel testo evangelico, suona forte come 10.000 campane, Allah, non mettere tra parentesi, come viene fatto, quasi sempre nelle interpretazioni, metterlo tra parentesi, vi è stato detto, io vi dico, e va bene, avanti, in continuità, ma continuità dove? Ma continuità dove? Dove sta la continuità? Sta un grande rovesciamento, io, io, che sono nel padre, ho sentito, io, che ho questa straordinaria affinità, e vicinanza, e interiorità col padre, ho sentito davvero, quello che il padre dice, certo che è lo stesso padre di Israele, ma io, finalmente, ho sentito, quello che mio padre dice, che è il padre di tutti noi, il padre di Israele, certo, il padre comune, ma io ho sentito, quello che dice, questo è, il vino forte, di questo discorso, il vino forte, di questo discorso, non può essere anacquato, da esegesi sofistiche, da filologie sedentarie, ma io vi dico, non c'è guerra giusta, fino al paradosso, appunto, addirittura, di appunto, amare chi ti odia, il nemico, chi ti odia, quando dice amare il nemico, lui lo ha nemico, e lo ama, ma sente che è nemico, no, il nemico è lui, che è nemico a me, ma io lo amo e basta, ma io lo amo e basta, è lui che mi sente nemico, ma io lo amo e basta, non è che lo senta nemico, e lo ami, malgrado lo senta nemico, è chiaro il concetto, così va interpretato, rivoluzione, grande rivoluzione, il cristianesimo, nei confronti del mondo classico, e nei confronti del mondo ebraico, c'è paura da fare, una grande rivoluzione, la più grande, che l'umanità, che conosciamo, abbia finora attraversato, e che ha segnato il mondo, in modo irreversibile, da tutte le parti, ma anche da questo proposito, è qui lo scandalo, dobbiamo affrontarlo, anche qui dobbiamo prendere il toro per le corna, il cristianesimo è incarnazione, il cristianesimo vive nella storia, il cristianesimo è un evento storico, in quell'anno, sotto Ponzio Pilato, là, in quel luogo, è un evento storico, è tutta incarnazione il cristianesimo, e nel mondo c'è polemos, c'è stasis, come rapportarci a tutto questo, possiamo, possiamo estragnarci da questa realtà, possiamo diventare xenoi, la xeniteia gnostica, possiamo essere una società di eletti, separati dal mondo, e no, il Signore dice andate, evangelizzate, portate ovunque questo lieto annuncio, perché evangelo vuol dire un annuncio lieto, felice, deve portare letizia, come spiegava Francesco, letizia, Francesco diceva, dovete andare in giro dappertutto, ilari, ilari, come è sereno e ilari il cielo, quando è limpido, azzurro, questo è l'annuncio lieto, che è un annuncio lieto, quando è che sei lieto, quando sei in pace, sei lieto, chiaro, ma il cristianesimo non vive astratto dal mondo, non può, il dogma fondamentale del cristianesimo, l'incarnazione, come fa a vivere estraneo dal mondo, deve essere nel mondo, e nel mondo c'è polemos, c'è stasis, come devo rapportarmi con questo mondo, il cristianesimo non può vivere nel deserto, come Gesù, che sta nel deserto, ma poi va, passa, cammina, naviga, come Francesco appunto, il suo più perfetto imitatore, che la cristianità abbia avuto, senza alcun dubbio, no? Questo è il problema, un drammatico problema, vorrei che si sentisse la tragicità del problema, perché qui è una fede che nasce appunto da quel rovesciamento che dicevo, non c'è guerra giusta, non c'è giustificazione possibile dell'omicidio, della guerra, questo è l'annuncio da portare in giro, ama il nemico, porzi l'altra guancia, questo è l'annuncio da portare in giro, e come si fa? Nei confronti del mondo, trama di tutto il primo cristianesimo, di tutta la prima teologia, di tutta la teologia politica cristiana, che il cristianesimo deve affrontare, con la quale deve entrare ai ferri corti, e come si risolve la cosa? I padri, fino ad Agostino, che conclude una lunga vicenda di riflessione sull'argomento, ma dimettiamoci appunto alla conclusione, insomma, che non è una conclusione qualsiasi, è Agostino, quindi una delle autoritate massime di tutta la teologia successiva, di tutto il periodo medievale, e oltre ancora, ma eredi di una lunga tradizione esegetica, dice, no, Gesù non ritiene, non condanna la guerra in sé, e si aggrappano in queste esegesi a un passo di Luca, 3.14, soprattutto Agostino compie questa esegesi nel Contrafaustum, un'opera di Agostino, ma poi la riprende nel De Civitate Dei, la grande opera di Agostino, e Luca 3.14, cosa dice Luca 3.14? Il Battista, Giovanni Battista, viene incontrato da dei soldati, dei soldati vanno da Giovanni e gli chiedono che dobbiamo fare, il dramma che vi ho detto, che dobbiamo fare noi soldati? E che cosa risponde Giovanni Battista, dice Agostino, cosa risponde? Risponde forse gettate via le armi, risponde forse abbandonate la milizia, no, non risponde così, risponde soltanto non maltrattate, non estorcete, accontentatevi della vostra paga, non nega la milizia, quindi, spiega Agostino, non li ritiene omicidi, non li ritiene omicidi, ma ministri legis, amministratori, esecutori della legge, salutis rei pubbliche defensores, difensori della salute, della salvezza, della forza, della Repubblica, dello Stato, defensores rei pubbliche, ministri legis, quindi legittimi, legittimi iure, sono detentori di un legittimo diritto alla milizia, perché? Perché non sono, non estorcono, non maltrattano, difendono il loro Stato, da qui nasce tutta la teologia politica e tutta la speculazione sulla guerra dell'Occidente, mettendo tragicamente tra parentesi il discorso delle beatitudini. C'è molto poco da fare. Una straordinaria, drammatica esegesi, non crediate che non sia costato sangue ad Agostino un'esegesi di questo genere. Ma siamo nella storia, dobbiamo attraversare questo seculum, siamo pellegrini in questo mondo, in questa storia, non siamo degli ascetti, non stiamo in cima a una colonna, siamo in questa storia e dobbiamo affrontarne le contraddizioni e allora non è eliminabile la milizia in questo mondo ma la milizia deve essere, può essere giustificata soltanto se la milizia è al servizio della difesa della Repubblica e se la milizia non comporta prepotenza, non comporta violenza, non comporta maltrattazione e allora la guerra può essere un iustum bellum, una guerra giusta a queste condizioni. San Tommaso riprende tutta questa elaborazione nelle sue summe quando si chiede appunto può essere giusta la guerra? Dice il signore no, però è detto anche Agostino e allora quali sono i criteri in base alle quali la guerra può essere giusta? E Tommaso ne indica essenzialmente tre, tre criteri che da allora sono stati rinvagati, ripetuti, storpiati in tutte le salse possibili e immaginabili. Il primo che la guerra sia dichiarata da un'autorità legittima. Eh, se io vi dichiaro guerra e metto a sparare vidosso non è una guerra. La guerra deve essere dichiarata da una res pubblica, da un'autorità legittima. Primo aspetto. Secondo aspetto, la guerra deve avere dei validi motivi. Primo è indiscutibile la difesa della Repubblica, quello che abbiamo appena detto. Terzo, molto interessante, la recta intensio. Cosa vuol dire recta intensio? Come terzo motivo che giustifica la guerra? Che io muovo guerra, sì, contro un nemico essenzialmente per motivi di difesa, ma opero già durante la guerra, già durante lo scontro, opero avendo l'intenzione diretta, recta intensio, alla pace. Cioè, faccio la guerra, ma opero in tutti i modi già durante lo scontro bellico puntando alla pace, alla pace con l'altro, non alla distruzione dell'altro. È chiaro? Perché se punto recta intensio alla pace con l'altro, non punto a distruggerlo, perché quando l'ho distrutto, beh, non è una pace, è un deserto tacito. voi chiamate deserto, voi li chiamate pace il deserto che fate. È chiaro, no? Recta intensio, la pace. La pace vuol dire patto, patto, latino, pax, è pactum, radice greca, pegnimi, qualcosa di fondato, un palo. E allora la recta intensio è giungere ad un patto ben solido con quello che adesso mi è nemico. Ti faccio la guerra perché non ci siamo messi d'accordo, ma lavoro in funzione del prossimo patto con te. A queste condizioni per Tommaso la guerra è giusta. Qual è il problema fondamentale su cui si arrovellerà tutta la teologia politica e la filosofia politica successiva? Mi vuoi dire, mi vuoi spiegare quest'idea di, di, capisco, posso capire la recta intensio, è importantissimo questo, no? Perché vi è una bella differenza se io faccio la guerra per distruggerti o se faccio la guerra per rifondare con te un patto. È ben diversa la guerra, chiaramente, no? E poi vedremo come nel contemporaneo sta diventando sempre più una guerra assoluta per l'annichilimento dell'altro, perdendo il criterio otomista fondamentale della recta intensio. Ma il problema riguarda soprattutto la seconda causa che giustifica la guerra e cioè che sembra che l'unica giustificazione della guerra sia difendermi. ma cosa significa questo? Vedete tutti gli equivoci che succedono quotidianamente quando parliamo di queste cose è giusto difendersi ma cosa vuol dire difendersi? Se io o se voi siete assolutamente convinti e certi in base a non importa che cosa che quello che quell'altro che quello straniero si prepara e si dispone ad attaccarvi non è forse logico che io lo prevenga ma e cosa sono scemo devo aspettare che mi spari perché io gli spari a mia volta è chiaro che il criterio della difesa non regge da nessuna parte è chiarissimo oppure l'offesa non non occorre che mi attacchi mi ha offeso Troia ancora mi ha offeso ho offeso la mia dignità ho offeso i miei valori chiamatela come volete mi ha offeso e chi stabilisce l'offesa se io adesso prendo a pugno l'oliva è chiaro che è un'offesa ma chi decide la gravità dell'offesa c'è un giudice c'è un terzo è evidente no? La gravità dell'offesa può essere decisa soltanto in un piano sul tribunale con un terzo se togli la terzietà il diritto crolla il diritto si regge sul fatto che la lite tra due viene risolta da un terzo ma qual è il terzo nel rapporto tra due stati che si fanno la guerra? Dov'è? Dov'è il tribunale? Dove sta? Quindi chi decide l'offesa? Nessuno può decidere l'offesa io mi sento offeso e gli faccio la guerra e nessuno può decidere la gravità dell'offesa così come nessuno può decidere che io non mi difendo quando attacco perché la mia difesa può essere assolutamente il mio attacco può essere assolutamente una difesa perché se so che quello mi sta attaccando ma chi decide anche qui? C'è un tribunale che decide che questo mio sapere che lui mi stava attaccando è giustificato? non c'è nessun tribunale nel rapporto tra stati non esiste quindi come faccio a tenere in piedi il criterio della giusta guerra? A prescindere dal discorso cristiano cristiano come faccio a tenerlo in piedi? E infatti quello è il grande gesto del moderno Machiavelli il nostro grandissimo Alberico Gentili grandissimo in parte poi ripreso dal Grozio che è stato riedito recentemente ma con più cautela Hobbes Spinoza qual è? Che non esiste criterio di giustizia sono rapporti di potenza e di forza tra potenze politiche tra potenze politiche e lo Stato dice chiaro e tondo Machiavelli ha in quanto Stato per propria natura il diritto di allargarsi di espandersi di rendersi sempre più potente a scapito di altri è nella natura dello Stato un diritto come dire tra virgolette naturale dello Stato e non c'è nessun criterio di giustizia che possa sovrintendere questo tipo di relazioni o di rapporti Alberico Gentili lo dice in termini ancora più drastici e duri ma qual è la conseguenza che loro traggono da questo discorso? Se la guerra è giusta sostanzialmente perché è dichiarata da uno Stato da un principe che ha l'autorità per dichiararla perché? Perché? Ma perché governa domina un popolo una nazione un territorio ed è giusta per questo ed è di diritto per questo perché il diritto del principe che ha l'autorità su un territorio dichiarare la guerra a un altro cosa significa questo per loro per questi grandi teorici del diritto e della filosofia politica europea che naturalmente poi dimentichiamo quando chiacchieriamo al bar delle tragedie che ci capitano e quella è la conseguenza ma la conseguenza è fondamentale cioè che se è così se guerra è giusta quando è dichiarata da uno Stato l'inimicizia tra due Stati comporta il fatto che sia l'uno che l'altro sono giusti 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 ostes sono nemici giusti perché entrambi hanno il diritto che gli deriva dalla propria natura di Stato e quindi dice Gentile entrambi da una parte e dall'altra i contendenti possono essere nel giusto per Tommaso non poteva essere assolutamente così per questa filosofia politica moderna certo da una parte e dall'altra sono nel giusto perché sono due Stati che si riconoscono reciprocamente in quanto Stati che non sono riusciti a risolvere i loro problemi sulla base di politica diplomazia eccetera eccetera quindi sono stati in qualche modo costretti alla guerra ma rimane la retintenzio che devono mirare a un patto riconoscendosi reciprocamente in quanto Stati quindi ostes sì ma giusti ma giusti questa è quindi facendo piazza pulita di ogni casistica su che cosa renda giusto in quanto tale il conflitto ma questa domanda tuttavia questa domanda oh avete notato che finora non si parla di religione non c'è assolutamente non c'è nessun nesso ontologico tra il tema religione e il tema guerra nessun nesso ontologico nessuna necessità di un qualche rapporto la religione rientra in questi rapporti soltanto può rientrare in questi rapporti soltanto per un aspetto che naturalmente in tutte le guerre è importante poi nella conduzione delle guerre un aspetto come dire ideologico la religione funge da ideologia da bandiera che può diciamo così motivare maggiormente sostenere maggiormente lo sforzo bellico ma non c'è nessun legame ontologico tra queste due dimensioni assolutamente nessuno assolutamente nessuno quando appare o si impone questo rapporto in una condizione specifica che non riguarda quello che ho detto finora in una condizione specifica si impone questo rapporto si impone questo rapporto quando civiltà diciamo pure ma attenzione quali civiltà quelle della famiglia di Abramo perché le grandi civiltà indiane o le grandi civiltà cinesi non hanno mai avuto questo impulso che proprio dalla nostra famiglia al proselitismo all'espansione eccetera eccetera non l'hanno mai avuto né cinesi né indiani semmai era così del pellegrinaggio non so il buddismo eccetera ma non aveva nessun intento un po' il buddismo ma insomma le grandi civiltà orientali non l'hanno mai avuto e tanto meno quelle che abbiamo conosciuto nelle Americhe prima della espansione o prima per dirla con Toynbee dell'assalto occidentale alle altre civiltà quindi l'elemento religioso rientra potentemente in questo fenomeno fondamentale per il nostro mondo cioè il fenomeno di espansione e di scontro in questa dinamica espansionistica delle due fondamentali derivazioni trasformazioni rivoluzionarie radicalmente se volete del ceppo abramitico l'islam e la cristianità storica non il messaggio di Gesù la cristianità storica le dinamiche di queste due grandi civiltà hanno condotto appunto ad uno scontro che ha caratteri propriamente religiosi ma nel concetto di guerra che è stato elaborato e di cui prima ho parlato l'elemento religioso è fondamentale capirlo non rientra non è presente non svolge alcuna funzione il legame tra religione e guerra riguarda essenzialmente le forme in cui l'islam ha cercato di espandersi ed affermarsi e contro a questo perché è contro a questo è contro questa formidabile espansione ricordate che nel settecento per un Poitiers l'assalto di Costantinopoli sono tutte nell'ottavo secolo l'occidente è stato molto vicino ad essere islamizzato molto vicino immaginatevi la rapidità con cui è stata islamizzata tutta la grande area mesopotamico siriana eccetera eccetera che era egiziana che era essenzialmente cristiana l'impeto si è fermato alla metà dell'ottavo secolo tra la Francia per metà che era stata invasa Poitiers e l'assalto fallito a Costantinopoli questo ha determinato appunto uno scontro che era essenzialmente uno scontro religioso cioè di civiltà e altrettanto questo elemento religioso nelle guerre che sono state portate l'assalto che è stato portato dall'occidente cristiano dall'Europa cristiana a tutti gli altri continenti lì si emerge ma appunto il legame tra religione e guerra emerge su questa scala globale non all'interno delle nostre concezioni del bellum che rimangono essenzialmente di carattere laico politico e su queste occorre discutere e su queste occorre discutere oggi perché oggi sarebbe sperabile appunto che i motivi di guerre di religione propriamente dette che erano evidenti allora perché una civiltà mossa da un grande fermento da una formidabile passione religiosa che si espandeva e dall'altra una resistenza e una reazione dopo il mille altrettanto che poteva motivarsi e sostenersi soltanto da un grande pathos religioso uno scontro di civiltà ma oggi vogliamo ripetere questo ma vogliamo ripetere questo nel mondo globalizzato eccetera è pensabile di ripetere questo oggi il conflitto deve essere riportato nei termini di quella filosofia laica e politica che dicevo deve essere riportato nei termini di un conflitto politico fondato sulla recta intensio e lasciamo perdere appunto il discorso sulla giustizia bisogna arrivare a patti a paci la recta intensio ancora deve reggere il nostro ragionamento va bene teniamo fermo quel piccolo paletto che riguarda l'offesa certo è inammissibile l'invasione è inammissibile l'offesa lasciamo perdere manteniamoci fermo a questo lasciamo perdere le cause lasciamo perdere tutto ma la recta intensio ci difendiamo lasciamo perdere se l'offesa è motivata non motivata eccetera l'offesa è deprecabile è nefanda bene però come come agiamo poi agiamo sulla base di un conflitto valoriale religioso o agiamo sulla base della recta intensio di giungere al patto questo è il punto o ci dilettiamo invece ci dilettiamo a vedere la giustizia come ci fosse appunto un tribunale da qualche parte che stabilisce ciò che è giusto e che non è giusto come potrebbe essere qualcosa di diverso questa giustizia se non un'idea filosofica ma allora che posso avere io che puoi avere tu ma può essere determinata e definita sulla base di un giudizio erga omnes ci può essere questo ci può essere questo soltanto se c'è un tribunale e soltanto se gli stati si mettessero d'accordo nel riconoscere l'autorità di un tribunale ecco la grande distinzione da fare il rapporto tra guerra e religione intendendo la guerra secondo i suoi principi cioè uno scontro armato tra potenze tra autorità che detengono un potere un potere all'interno di territori determinati questo questo bellum non ha ontologicamente nulla a che fare con motivi di carattere religioso se non in termini di mobilitazione delle masse se non riducendo la religione a uno straccetto ideologico contro il quale riduzione contro la quale soprattutto e prima di tutto gli uomini di fede gli uomini religiosi dovrebbero insorgere gridando allo scandalo e la blasfemia quindi secco c'è invece un motivo storico che però sarebbe augurabile fosse superato credo no? le guerre di religione ci sono state le grandi guerre motivate anche davvero motivate da conflitto religioso si sono esaurite ci sono certamente esaurite perché non c'è nessuna nessuna dinamica di espansione di assalto da parte dell'islam l'assalto occidentale è finito da quel di si è compiuto l'occidentalizzazione del mondo è un fatto irreversibile è accaduto quindi nessuna nessuna possibilità di una guerra di religione nei termini di guerra di civiltà nessuna reale ideologia se volete certo c'è qui può sfruttare questo ideologicamente ma in termini appunto puramente ideologici puramente di falsa coscienza falsificando la realtà la realtà è che noi siamo di fronte a conflitti politici a conflitti politici e il conflitto politico deve essere gestito in modo politico sulla base di una razionalità politica di una razionalità allo scopo questi sono interessi contrapposti su questi interessi contrapposti non c'è tribunale che decida chi ha ragione e chi ha torto chi non è giusto chi non è giusto ma c'è la razionalità che deve portarti a ristabilire e rifondare dei patti perché se le contraddizioni continuano a crescere le guerre sono affrontate con spirito con spirito religioso come ci fosse una contrapposizione totale di valori per cui appunto io devo muovermi a una guerra contro l'altro che ha tutti i caratteri di una guerra assoluta di una guerra cioè che vuole condursi vuole essere condotta fino alla distruzione dell'altro non fino al patto ma fino alla distruzione se noi continueremo su questa strada aumenteranno le contraddizioni aumenteranno i disastri fino alla possibilità anche di un conflitto mondiale è evidente perché se noi continuiamo a sommare contraddizioni e contraddizioni e non ne risolviamo nessuna non risolviamo quella medio orientale non risolviamo quella tra Europa dell'est e Europa continentale non risolviamo quella tra occidente e oriente come si configura attualmente cioè tra l'occidente e la Cina con qualche annesso assai pericoloso vedi Corea del Nord se non risolviamo queste ma anzi le aggraviamo via via e le carichiamo di valori virgolette 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 religiosi io sono nel giusto e tu sei un hostis inustus addirittura un inumano neanche il barbaro ma l'inumano se noi continuiamo a giocare questo gioco e diamo alla guerra questo carattere esecrabile per i Machiavelli per i Gentili per i Grozio per gli Spinoza per gli Hobbes eccetera per gli Hegel eccetera eccetera no? continuiamo su questa strada andremo a finire come siamo già finiti nel passato soltanto in una situazione ancora più tragica no? perché si è visto come nel passato per due volte queste forme di nemicizia lasciamo perdere adesso chi più colpevole e chi meno queste forme di nemicizia crescendo crescendo abbiano portato a due sciagure che l'umanità non aveva mai conosciuto dobbiamo in tutti i modi a partire dalla coscienza di uno di noi io ritengo cercare di evitare che questo si ripeta e finora mi pare che nessuno seriamente stia lavorando affinché affinché non si ripeta il primo passo da fare affinché non si ripeta è essere consapevoli credo di quello che ho detto nella nostra tradizione occidentale non si dà alcuna relazione necessaria tra religione e guerra togliamo togliamo di mezzo la religione per piacere togliamo di mezzo questa religione ridotta ideologia togliamo di mezzo questa discussione questo scontro come ecco io sono la giustizia tu sei il barbaro o addirittura l'inomano sgomberiamo il campo da tutto ciò e muoviamoci sul piano della razionalità politica cioè di quella razionalità tommaso che non condanna la milizia ahimè ahimè siamo in questo secolo e probabilmente la milizia continuerà fino alla fine fino al giorno del signore fino al giorno del giudizio ma c'è modo e modo di vivere in questo secolo di essere pellegrini in questo secolo cerchiamo di essere dei seri pellegrini dei pellegrini seri e responsabili bene grazie professor Cacciari adesso si apre il dibattito per cui chi volesse intervenire può prendere la parola con il microfono basta presentarsi anche c'è quello lì così continuiamo questo ragionamento ecco prego sì grazie professore per quanto ci ha regalato io vorrei prendere spunto da quanto lei insomma ci ha detto per farle una domanda così un po' calata nella nostra attualità nella nostra geopolitica cioè lei ritiene che oggi nel contesto attuale l'Europa sia disposta a riarmarsi nel senso sia disponibile a stanziare nei suoi bilanci una somma consistente per la difesa se una difesa comune europea può giocare un ruolo nella sopravvivenza della stessa Europa e se lei per il futuro immagina un esercito europeo diciamo così a composizione religiosa vista cioè formata da soldati di religione cristiana e soldati di religione musulmana grazie recogliamo tre tre domande e poi a seguire ne faccio una io allora mentre ci si organizza un po' no mi chiedevo ovviamente che tu dici giustamente che la religione gioca un ruolo spesso come dire di catalizzatore per sollevare le massi ideologico e viceversa nel senso che a un certo fase storica la religione è servita alla politica per sollevare però anche il contrario nel senso che oggi spesso questi conflitti politici servono a ridare un senso religioso che quasi sta svanendo quindi anche in senso opposto c'è un reciproco sostenersi è come se ci fosse un patto sottinteso tra il potere politico e il potere religioso che riaffiora ma se c'è questo patto sottinteso che evidenza quasi una specie di alleanza di alleanza non dico strutturale non dico ontologica ma storicamente significativa è possibile immaginare veramente che i due si possano sganciare completamente cioè pensare all'idea che esista un mondo o potenze politiche che agiscono secondo la recta intensio secondo cioè delle dinamiche esclusivamente politiche non significa presupporre già quello che dobbiamo costruire cioè un territorio neutro politico riconosciuto da tutti e che invece in qualche modo oggi mancano c'è qualche altra coraggio coraggio ecco prego grazie grazie professore per l'Alexio e le volevo semplicemente chiedere invece come continuerà il processo di secolarizzazione che è avvenuto in occidente e se nel caso avverrà anche per quanto riguarda la realtà islamica e se ciò non dovesse accadere insomma se sì volevo chiederle se anche per quanto riguarda la religione islamica ha subito un processo di secolarizzazione come è avvenuto diciamo in occidente in particolar modo mi riferisco a tutte le varie tipologie di guerre che ci sono state all'interno dei principi dottrinali e se nel caso non accada possa rappresentare un pericolo oppure oppure no la ringrazio sì scusate dunque brevemente per dare spazio anche altre domande l'Europa sì politicamente penso che l'Europa debba avere una politica di sicurezza comune è evidente autonoma e per avere una politica di sicurezza davvero autonoma certamente c'è anche un problema di spesa certo non puoi avere una politica di sicurezza in questo mondo se sei anche militarmente indifeso qui c'è un problema appunto di coesione europea c'è un problema di politiche comuni c'è un politica di comune per quanto riguarda che alla fine potrebbe essere anche giungere anche ad un esercito unico ma anche qui ci vorrebbe un'intenzione politica l'Europa vuole essere autonoma è chiaro che una potenza tra virgolette potenza che non pensa alle proprie politiche di sicurezza questo mondo non sarà mai autonoma è chiaro perché se la mia politica di sicurezza viene fatta da altri quell'altro avrà un potere politico su di me quindi se l'Europa deve vuole essere autonoma anche politicamente e contare dovrà darsi una politica di sicurezza autonoma e spendere per averla altrimenti sarà quello che è dipendente da altri non autonoma e questa è una scelta che i cittadini europei e i loro rappresentanti devono compiere devono compiere con realismo non possono dire pensare di avere botte piena e moglie ubriaca che è uno sport soprattutto nazionale italiano no se vuoi una politica di sicurezza autonoma devi ciò costerà ciò costerà poi altra questione è su chi dovrà pesare questo costo chiaramente no altra questione che riguarda le politiche distributive che ogni stato può avere ma la prima scelta da fare è se vogliamo o non vogliamo se riteniamo che valga la pena oppure no ma non possiamo essere sicuri e dire beh sai tutto l'aspetto militare beh su quello ci pensano gli altri perché se gli altri ti garantiscono in una forma o nell'altra sicurezza vorranno contare a casa tua su tutte le altre questioni politiche diplomatiche eccetera eccetera ovvio naturale hai ragione come si fa a sganciare certo ecco qui forse non sono stato chiaro è evidente che qui dovrebbe esserci una fondamentale distinzione tra noi e la cultura e la civiltà islamica non c'è dubbio non c'è dubbio anche lì attenzione non è sia una religione bellicistica eccetera eccetera quando si parla di jihad si parla abbraccio per sentito dire anche per l'islam la jihad fondamentale è la lotta interiore interiore che tu devi fare con te stesso per affermare anche quello cioè l'elemento di interiorità eccetera è presente anche nell'islam ma certamente la religione islamica da questo punto di vista è molto più vicina ad alcune correnti ad alcune idee dell'ebraismo di quanto non sia appunto la religione cristiana che volente o nolente è cristiana nel senso che si rapporta alle parole volenti o nolenti si rapporta alle parole di Gesù il cristiano non si chiama il cristiano non si chiama islam islamico islam è obbediente a Dio crede in Dio unico e obbedisce a Dio questo è islam questo è musulmano il musulmano è l'obbedienza a Dio l'obbedienza e no e quindi crede in Dio nell'unicità di Dio è questo ma il cristiano non è semplicemente colui che crede nell'esistenza di Dio dice credo che quella quell'uomo che ha detto quelle parole sia il figlio di Dio questo è la fede del cristiano non in Dio ma nel logos di Dio che è Dio eh e c'è una differenza fondamentale no che la teologia musulmana sottolinea in tutti i modi la teologia musulmana di ogni genere quello del cristiano di pensare a un'incarnazione del logos eccetera eccetera è puramente bestemmia puramente bestemmia quindi eh sì c'è questa differenza per l'islam secondo me vale può valere il discorso che tu fai ma non può valere per il cristianesimo non può valere per il cristiano non può valere per la civiltà cristiana il discorso che tu fai assolutamente assolutamente per la cristianità il la lotta politica va sganciata completamente dal discorso di fede dal discorso religioso la secolarizzazione da questo punto di vista è il prodotto più prezioso della cristianità le vostre lotte politiche non hanno a che fare con la mia religione guai a voi se mettete in mezzo le parole della mia rivelazione con le vostre lotte politiche questo questo gesto questa decisione non può aver luogo nell'islam assolutamente questo non può aver luogo nell'islam proprio per la tradizione islamica la tradizione islamica il rapporto tra l'elemento la dimensione religiosa e la dimensione politica è ontologico e quindi di conseguenza anche la guerra in quanto la tecne polemiche è parte come si sa l'arte della guerra è parte dell'arte politica quindi qui vi è una distinzione da fare che forse non è stato chiaro la secolarizzazione dell'islam è una una vuota speranza dell'occidente che pensa appunto che tutto debba finire assomigliando a noi tutto non è detto non è necessario possiamo magari anche sperarlo non lo so ma non è necessario e tantomeno dobbiamo fare le guerre perché ciò avvenga cioè esportando i nostri valori eccetera eccetera tanto meno secolarizzazione è un processo che avviene nell'Europa o cristianità che si spiega anche e soprattutto con i caratteri propri dell'annuncio cristiano la laicità non è un valore che assente la laicità laos laicità il popolo e che non ha equivalenti nel mondo islamico certamente quindi nessuno è profeta nessuno sa come andrà a finire si secolarizzerà l'islam quello che è certo e che combiniamo disastri ogni volta che vogliamo insegnare l'islam la secolarizzazione la democrazia il nostro diritto eccetera eccetera abbiamo combinato disastri e continueremo a combinarli la parte degli errori che riconosce anche Biden adesso Biden gli ha detto non ripetete i nostri errori beh tra le parti degli errori ci sono anche questi in questo percorso affascinante che ha fatto il professor Cacciari raccontandoci come il cristianesimo sia entrato nella storia in qualche modo si sia sì una compromissione attraverso il pensiero di Tommaso di Agostino la domanda è questa dobbiamo rinunciare a questa totalmente a questa splendida utopia annunciata da Cristo ribadita da Francesco e pensare che non ci potrà essere il tabù della guerra un giorno e che ancora la guerra debba essere giustificata attraverso le ragioni che naturalmente tutti quanti oggi abbiamo concordato essere quelle le tre ragioni che appunto la tassonomia che il professor Cacciari ha raccontato ecco io credo che se non baluggina ancora questa questo pensiero utopico insomma è davvero triste ecco non poter non poter pensare che ci sia un'alternativa a questo realismo che da secoli governa le nostre vite grazie buonasera allora io vorrei partire dal famoso versetto di Luca se non sbaglio anche di Matteo diligite i nemicos vestros ora io non devo insegnare al professor Cacciari che Schmitt mi sembra Carlo Schmitt a proposito di questo versetto distingue tra inimicus e hostis dove inimicus è il nemico personale invece hostis è il nemico pubblico e Schmitt su questa distinzione fonda un'interpretazione importante a proposito della teoria della guerra e del cristianesimo se vogliamo accettare questa strada che Schmitt mi sembra indicasse allora andiamo in una direzione che è completamente diversa da quella che dice il professore mi sembra beh perché Schmitt inimicus è il nemico personale è il nemico privato quindi quando Gesù Cristo dice diligite inimicus vestros non intende dire amate il vostro nemico pubblico intende dire amate i vostri nemici personali i vostri nemici privati allora la questione della guerra non si fa la guerra al nemico personale si fa la guerra al nemico pubblico no? se è una guerra tra stati ma la guerra non ha niente a che fare con il nemico personale è una una stupidaggine di Schmitt semplicemente l'inimicus non ha niente a che fare con il nemico personale la guerra non si fa per inimicizie personali per inimicizie personali si fa una lite che poi c'è un giudice autorizzato a risolverla in un modo o nell'altro quindi è chiaro che lì il termine evangelico abbraccia ma è talmente evidente come si fa a fare questi sofismi per salvare poi l'idea di un bellum justum che è l'idea di Schmitt perché Schmitt elabora tutto naturalmente dicendo noi siamo dimenticati del bellum justum e nel novecento poi ce l'ha con i tedeschi con sé e nel novecento noi tedeschi siamo stati trattati da inumani da barbari da selvaggi ci hanno distrutto bombardato Nuremberg e così via quindi non siamo stati trattati da justi hostes mentre il grande diritto di cui vi ho parlato parla appunto di justi hostes perché perché sono appunto hostes pubblici non inimici inimici privati quella è una questione che non riguarda né il diritto internazionale né il diritto pubblico l'inimicizia privata riguarda il diritto privato è il diritto privato che viene tranquillamente amministrato all'interno di diversi stati l'idea che lì in quel passo evangelico si abbia l'idea che ci possono essere nemici pubblici ma che io devo amare soltanto i nemici privati è ridicola lì è il nemico in quanto tale che va amato e c'è il problema che diceva la signora questa idea di una pace che non è soltanto il patto ma che ha molto a che fare con il discorso che diceva prima Oliva cioè questa fratellanza fratelli nel padre comune e badate è un grande discorso quello che accennava prima Oliva perché noi non veniamo tra l'altro anche dalla rivoluzione francese si dice no e no non si dice è così e lì cosa c'è libertà egalità fraternità e perché non si limitano a dire libertà ed egalità perché non si limitano a dire libertà e egalità perché ragionano perché se io dico semplicemente libertà e uguaglianza e qui mi viene in soccorso Schmitt se dico semplicemente libertà e uguaglianza dico un qualcosa di assolutamente contraddittorio non ve ne siete accorti? dico un qualcosa di assolutamente contraddittorio una contraddizione in termini perché io sono libero soltanto per non essere uguale a lui non per essere uguale quindi libertà e uguaglianza cosa vuol dire? io sono libero per essere me stesso e non uguale a te cosa mi viene a dire che sono libero per essere uguale a te? eh fraternità che spiega in che senso va intesa la libertà e in che senso va intesa l'uguaglianza che non significa che io devo essere identico a te ma sono diciamo legato a te da un etos comune fraternità senza il termine fraternità egalità e libertà formano una contraddizione in termini ma questa idea di fraternità da dove l'hanno beccata i rivoluzionari francesi che si travestivano come dice Marx da antichi romani da Bruto Cassio eccetera eccetera da dove l'hanno attinta? non da Roma non dalla Grecia da Gesù Cristo è un pasticcio questo? è qualcosa che sta insieme? chiediamocelo eh con la forma un pasticcio perché quella fraternità quell'idea di fraternità ha una deriva diversa da libertà e egalità completamente diversa un eco propriamente teologico evidente e allora ecco la la vitale contraddittorietà di questa civiltà e di questa tradizione vitale che però bisogna essere consapevoli per tentare di tenere insieme questa contraddizione no? e non risolverla a colpi di spada non è un caso che fraternità è proprio la della triade è proprio il concetto come dire attualmente più anacronistico da un punto di vista politico perché non esiste che la politica solidale sussidiaria diceva lui e dice siamo dimenticati ma come facciamo a dimenticare se la triade rivoluzionaria francese dice fraternità com'è che ce lo siamo dimenticati? perché è rimasta soltanto la libertà e l'uguaglianza la libertà per me per non essere come te per non avere rapporti con te magari per distruggerti perché c'è la preponderanza dell'utile e poi tutto tutto quello che sappiamo a questo proposito insomma del dominio della grande bagascia come diceva Shakespeare no? il dominio della grande bagascia il denaro salve professore volevo fare una domanda in realtà più una riflessione mi sembra di aver capito che rispetto al discorso della guerra fra stati è una terza parte che decida se è giusta o sbagliata manchi una sorta di leviata internazionale in obsiana memoria le volevo chiedere dal suo punto di vista lei è un realista nel senso che davvero manca cioè davvero il sistema internazionale è così anarchico ricordandoci poi che alla fine della guerra fredda i costruttivisti ci hanno detto anarchist what states make a beat e rispetto a questo qual è il suo pensiero o parere rispetto a quella struttura sovranazionale che abbiamo creato dopo il 45 con tutte le contraddizioni del caso del consiglio di sicurezza ci manca davvero un levetano internazionale o quale potrebbe essere la risoluzione in questo senso l'ONU il consiglio di sicurezza possono affrontare e dare risposta soltanto a conflitti che non riguardino le grandi potenze perché laddove il conflitto riguarda le grandi potenze tutto viene bloccato dal dal diritto di veto previsto se no non avrebbero neanche fatto le Nazioni Unite se se una delle grandi potenze vittoriosa avesse potuto essere messa in in minoranza ti vedi gli Stati Uniti che accettano l'idea di poter essere messi in minoranza o la Russia sovietica o la Cina ridicolo no? e quindi l'ONU per carità teniamocelo ma serve per conflitti locali o servivo una volta per conflitti locali cioè conflitti che non mettono in gioco immediatamente gli interessi strategici delle grandi potenze quindi l'idea che l'ONU possa essere quel tribunale che decide dei conflitti tra le grandi potenze ma anche tra gli Stati legittimamente costituiti è una cattiva utopia cioè ci sono le utopie buone come quelle della Signora che io condivido certo figurarti se non dobbiamo essere mossi da quest'idea che la guerra certo dobbiamo essere mossi da quest'idea la nostra civiltà è una civiltà cristiana e come possiamo ignorare che lì quella parola divina no? Nietzsche l'anticristo no? che dice io beh io non so e non mi interessa neanche sapere se Gesù era figlio di Dio eccetera ma questa una cosa so che le sue parole sono divine Nietzsche Nietzsche è così questo so anch'io e allora perché non debbo non debbo non sperare che una parola vuota cos'è no ma questo perché non debbo sentire la divinità di quelle parole come faccio come faccio a non sentirle come faccio a non sentire tutta la mia miseria rispetto a quelle parole se noi riuscissimo a sentire la nostra miseria quando facciamo guerra in tutti i termini del mondo sentire la miseria della nostra fare guerra rispetto a quelle parole saremmo a metà del guado quando sentissimo la miseria delle nostre prepotenze quando muoviamo guerra all'altro la miseria di questa umanità che continua a farsi le guerre se sentissimo questo saremmo a metà del guado la propria sentire la propria inopia lo diceva anche Agostino è fondamentale per una coscienza europea sentire la propria inopia per una coscienza europea la propria insufficienza la propria finitezza com'è che com'è che siamo nemici com'è che continua questa storia dell'inemicizia cos'è espressione di potenza espressione di grandezza ma è espressione di miseria questa volontà di acquisire questa volontà di possedere cos'è espressione di grandezza ma è espressione di miseria espressione di vuotaggine perché se tu fossi convinto e pieno in te cosa vuoi vai in cerca di possedere l'altro di allargarti quindi io quella è una buona utopia che non è neanche un'utopia e invece una cattiva utopia è quella di affidare a potenze storiche missioni impossibili come quella di dire adesso l'ONU la facciamo un tribunale un tribunale universale impossibile quello che possiamo fare realisticamente io sono un assoluto realista e non si ragiona di politica se non in termini di realismo la filosofia politica la riflessione che vuole essere realista quando ragiona su questi terreni da Platone in poi è stato così anche Platone è un realista io ho scritto in Geofilosofia dell'Europa un capitolo intitolato Platone il realista non è un'utopia svanverata è un paradigma quello platonico volete una città bella compiuta e allora questo è il modello questo è il paradigma no l'utopia fa un altro movimento fa un altro movimento ti dice e questo è tutto realizzabile e lì devi politicamente mirare no la conclusione della Politeia platonica della Repubblica è una conclusione assolutamente pessimistica assolutamente pessimistica quel tale che è giunto in alto fino a vedere le stelle il sole la luce tutto quanto quello che volete che torna nella caverna per educare i suoi simili viene messo a morte fine quindi realismo realismo politico la domanda che faceva è appunto questo io ritengo che che debba essere oggi un un imperativo categorico della politica realista giungere lavorare recte intenzio per giungere di nuovo a patti la grandezza delle potenze occidentali che hanno che hanno sconfitto che hanno sconfitto chi? hanno sconfitto una potenza che non voleva giungere a patti no? la la vera diciamo diabolicità del nazismo non consiste in questo la vera straordinaria diabolicità del nazismo non consiste precisamente in questo cioè nel muovere una guerra che non prevedeva recte intenzio non prevedeva in alcun modo il patto prevedeva soltanto la distruzione di ciò che riteneva il nemico e nemico attenzione nemico in un senso radicalissimo cioè non nemico politico ma nemico nemico neanche dell'umanità attenzione ma dell'umanità che questo regime politico voleva creare ci sono testimonianze incredibili che sono via via uscite su Hitler sul suo gruppo che aveva anche delle dimensioni misteriosofiche anche se volete in cui è chiarissimo che lui certo gli ebrei sono il primo step il primo step nella via per la costruzione della nuova umanità il primo step ma poi bisogna cambiare radicalmente anche i tedeschi ci sono parole di Hitler in cui detesta i tedeschi detesta i tedeschi perché non sono ancora maturi perché non sono ancora abili alla creazione del nuovo uomo quindi lì abbiamo un esempio di guerra assoluta condotta sulla base di principi e di carattere appunto assoluto che viene sconfitto e viene sconfitto da potenze che si riconoscevano già allora in alternativa attenzione perché si riconoscevano già allora in alternativa immaginatevi nel dopoguerra la situazione politica americana McCarthy cioè non c'era nessuna simpatia per l'avversario politico l'opposto ce n'è più adesso tutto sommato e cosa facevano invece cosa hanno fatto per 30 anni 40 anni patti patti su patti patti su patti patti sulla proliferazione nucleare patti giungevano a grandi crisi che ci hanno portato a un passo dalla guerra nucleare e hanno fatto un patto crisi di missili a Cuba eccetera eccetera hanno lavorato costantemente per patti riconoscendosi e nessuno dei due si è sognato di dire tu sei nemico dell'umanità tu sei il barbaro tu sei il selvaggio nessuno dei due mai né tra di loro durante la guerra fredda né con la Cina nessuno hanno lavorato per quanto possibile in mezzo a mille difficoltà mille contraddizioni ma è stata politica attenzione io sono per davvero esaltare l'arte politica che hanno avuto le grandi potenze nel secondo dopoguerra perché guardate Corea Vietnam Cuba rendetevi conto di quale arte politica ci deve essere per affrontare e risolvere crisi di questo genere compatti adesso sono trent'anni che questa arte politica si sta disfacendo si sta disfacendo si sta disfacendo in Medio Oriente si sta disfacendo nell'estero europeo e capite allora la gravità dei pericoli che stiamo correndo Buonasera quando nel 1914 ci fu l'attentato all'erede al trono d'Austria sicuramente né nell'Europa né nel mondo intero hanno avuto la percezione che si stava precipitando nella grande guerra così come quando Hitler nel 39 in base alla Polonia forse non lo sapeva neanche lui dove sarebbe andato a parare che cosa che cosa stava muovendo che cosa avrebbe generato quindi la domanda che io volevo rivolgerle è quali sono le affinità e quali sono le differenze che lei riscontra tra la condizione della polveriera balcanica che ha preceduto l'attentato a Francesco Ferdinando il sentimento di rivalza della Germania all'indomani del diktat e del crollo del Marco e l'inasprimento del conflitto arabo-israeliano che stiamo vedendo in questi giorni grazie situazioni completamente diverse insomma quello che è certo è che un certo ordine del mondo che come dicevo ci ha retto fino alla caduta del muro fino alla dissoluzione dell'Unione Sovietica non è stato sostituito quello era un ordine poteva piacere o non piacere contraddizioni conflitti guerre guerre ce ne sono state a Iosa durante il secondo dopo guerra comunque c'era un ordine che piacesse o non piacesse c'era un ordine il globo era ripartito secondo un ordine questa questa situazione via via è venuta è venuta meno occorre ricostituirlo tutto il mio discorso significa semplicemente questo occorre ricostituirlo non potrà mai essere il globo retto monarchicamente io ritengo se c'è l'intenzione di reggerlo monarchicamente con un solo comando si finirà inevitabilmente con il con il conflitto per forza e allora se evitiamo e se nessuno ha l'intenzione a differenza che nel caso di Hitler perché Hitler aveva questa intenzione dichiarata attenzione Hitler poteva evidentemente a parte il fatto che era assolutamente certo di vincere ma al di là di questo che forse non fosse certo di vincere aveva l'intenzione della monarchia aveva l'intenzione europea e poi si sarebbe visto con gli Stati Uniti quello che non ha previsto forse era per nostra fortuna la sciagura degli alleati che si trovava da un lato quelli che gli fanno costringono gli americani a scendere in guerra dall'altro a noi per fortuna aveva degli alleati scadenti diciamo molto scadenti perché per il resto voleva la guerra mirava la guerra la sua intenzione era quella cioè l'opposto della recta intenzio atomista l'opposto esattamente il rovesciamento l'opposto sono situazioni completamente diverse quello che è certo è che l'ordine viene meno e l'ordine si gioca su due tre questioni chiaramente è chiarissimo è chiarissimo che si gioca su due tre questioni il rapporto con la Russia perché lì o è guerra infinita sul confine guerra guerriglia infinita ma con quali conseguenze anche economiche sapete soprattutto per l'Europa è chiaro mi pare evidente che dovremmo giungere a stabilire dei criteri di un patto che parte ovviamente dal pieno riconoscimento della inammissibilità totale comunque di invadere uno stato sovrano non c'è dubbio alcuno l'altro scacchiere fondamentale è quello medio orientale ma al cuore di quello scacchiere c'è un conflitto davvero tragico e davvero anche di spessore virgolette religioso tra quello tra Israele e Palestina e quello bisogna che ci siano le potenze occidentali a dirimerlo perché ben difficilmente si potrà aggiungere un patto direttamente tra palestinesi e israeliani malgrado tutti i tentativi che sono stati fatti in passato vi ricordate Camp David vi ricordate i colloqui di Oslo perché lì il sangue non è acqua amici e quando scorre troppo forma un fiume che non è più attraversabile quindi lì è una partita che deve giocarsi l'occidente è una partita che deve giocarsi negli Stati Uniti è un patto che devono stabilire loro c'è poco da fare e farlo mangiare agli interessati e poi c'è la Cina e lì è un punto di domanda grande come una casa se vi sarà la possibilità sulla base di evidenti interessi economici perché gli interessi economici sono assolutamente evidenti da una parte e dall'altra basta pensare che il 20% del debito americano è in mano alla banca centrale cinese quindi voglio dire sono evidenti gli interessi economici commerciali di scambio però sapete la comunanza di interessi economici non esclude l'inimicizia né a livello privato che abbiamo gli stessi interessi oppure la nostra concorrenza diventa una competizione sfrenata né a livello pubblico quindi lì da un lato la questione sembrerebbe più semplice perché gli interessi economici sono assolutamente a differenza che con la Russia che dove non ci sono queste ma con la Cina sono per noi ci sono per noi europei ci sono tutti gli interessi economici in un rapporto con la Russia non per gli Stati Uniti con la Cina invece gli Stati Uniti stessi hanno enormi interessi e quindi bisognerebbe cercare di far leva su questi interessi per cercare di stabilire un patto che sia un patto anche politico tra queste due potenze perché il conflitto in prospettiva davvero mondiale secondo me non è né quello in Medio Oriente né quello ai confini dell'Europa dell'Europa occidentale ma è quello tra Occidente e Cina tra Occidente e Oriente tornano queste categorie Occidente e Oriente eppure Schmidt che è stato prima citato eppure si tornano tornano perché lì anche in gioco una civiltà una civiltà che non confonde affatto religione con cosa semplicemente perché la classe politica l'elite politica cinese non ha niente a che fare con la religione ma da millenni da secoli è un'elite politica un mandarinato del tutto laico fondata su un'etica che non è una religione un'etica confuciana qui non abbiamo il tempo per spiegarlo che non è una religione è una grande etica e questa grande etica sta formando forma da secoli la classe dirigente cinese quindi una tradizione ben fondata ben solida non è il gruppo dirigente bolshevico non è il gruppo dirigente bolshevico non è il gruppo dirigente rivoluzionario europeo è un'altra cosa se c'è un'ultima domanda così concludiamo prego professore lei poco fa ha parlato di classi dirigenti capaci di fare quei patti nel dopoguerra e volevo chiederle non le sembra che invece in questo momento le classi dirigenti dei principali paesi del mondo siano precipitate in una mediocrità impressionante e questo non derivi anche da una crisi della rappresentatività della democrazia da una parte e dall'altra dell'assenza di democrazia in altri paesi c'è qualche altra domanda raccogliamo l'ultimo giro e prego sì salve io volevo più che altro appunto fare un appello a proposito di queste guerre in corso in particolare quella tra Israele e Palestina perché secondo me ovviamente sì sono i dirigenti delle nostre nazioni che diciamo si interfacciano con gli altri dirigenti delle altre nazioni eccetera e prendono le decisioni però volevo soltanto dire che secondo me anche noi come singoli cittadini ed esseri umani possiamo se capiamo qual è la questione esprimere la nostra opinione appunto rifletterci cercare di avere un impatto insomma perché comunque ci sono tante non so carneficine e ingiustizie carneficine e questo c'è un'ultima domanda prego salve sono rimasto un po' confuso prima avevo qualche idea adesso le idee sono un po' più confuse per fortuna abbiamo lasciato in sospetto tre punti insospensivi e la voce di Gesù Cristo amate tre punti sospensivi la voce di Gesù Cristo amate i vostri nemici e che fine ha fatto cioè mettiamoci un attimo dal punto di vista del povero cristiano non per citare Silono l'individuo il cristiano si trova di fronte a questo dilemma questo strazio questo dramma come diceva lei all'inizio devo seguire alla lettera a modi San Francesco tutto l'insegnamento io come individuo in generale che mi sforzo di essere un vero cristiano o devo seguire la realpolitik e devo dire vabbè mi accontento di San Tommaso di San Agostino e trovo un modo per uscirmene è un dramma è un dramma che sto rivivendo proprio in questo periodo tra fanno bene gli israeliani a reagire o dovrebbero come ha insegnato qualche anno fa Grossman proprio che ha avuto suo figlio ucciso dai palestinesi però ha detto senza la pace per ottenere la pace si deve perdere qualcosa per ottenere la pace devi perdere qualcosa anche tra marito e moglie se voglio la pace devo accontentarmi di diciamo di non vedere giustizia nel mio modo di pensare e allora mi chiedo l'idea di cristiano l'idea evangelica mi devo rassegnare che deve essere fagocitata dalla politica e quindi sono 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 giustificato perché c'è qualche cosa di più grande di me che giustifica le mie azioni l'omicidio o ammazzare il nemico e poi che fine fa l'uccisione del tiranno e allora se questo è vero se questo è vero allora non dobbiamo più non hanno più colpa i diciamo gli SS gli assassini e così via allora dobbiamo giustificare anche la frase ma me l'avevano comandato e quindi non entra più in gioco la 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 come si dice la coscienza personale e lo so che sto confondendo un po' le cose però diciamo è un dramma che sto vivendo anch'io e poi un'altra domanda diciamo veramente veloce che si intende per stato laico uno stato in cui sono rappresentati tutte le religioni come diciamo grossomodo in Italia o quella la francese anche se figlio della rivoluzione francese dell'illuminismo è dove nessuna religione se arriva all'assurdo dove nessuna religione cioè io non posso mettere il crocifisso io cioè quale delle due è quella che deve essere seguita ecco allora è il mio vedete vedete sapevo che prima o dopo sarebbe successo allora non lo so capisco cioè è un grande dramma non c'è dubbio alcuno non posso condividerlo perché appunto condividerlo significa secondo me anche vivere all'interno di quella dimensione di fede no? ma so una cosa che già sarebbe molto molto se appunto ci fosse una parola che nettamente distingue e separa appunto la dimensione politica e del realismo politico da ogni dimensione propriamente religiosa o di fede no la religione la mia religione la mia fede con le vostre guerre non c'entra niente niente le vostre guerre non hanno nulla a che fare con la cristianità è falso in parte si storicamente ma è il vero la vera e unica crisi giudizio che si può dare non hanno niente a che fare con la cristianità le vostre guerre diverso il discorso con l'islam è diverso necessariamente diverso perché la affermazione di una laicità dello stato non è propria della tradizione e neanche dei fondamenti dell'islam a me basterebbe questo che lo si dicesse chiaramente che non si appellasse a valori che hanno a che fare appunto con qualsiasi dimensione e qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi fattore elemento della tradizione cristiana si fate la guerra perché e perché siete perché siete poveri perché siete miseri perché non avete ascoltato l'annuncio perché non siete in grado di ascoltarlo perché siete ancora neppioi come dice il Vangelo infanti infanti non avete ascoltato il logos non sapete parlare infante non avete logos e se questo venisse detto ad alta voce sarebbe già molto 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 senza infingimenti senza compromessi senza sofismi nessuna vostra guerra ha niente a che fare con la cristianità è uno scandalo di cui il cristiano soffre che vi siano ancora le guerre eccetera eccetera comunque non hanno niente a che fare con la mia religione e poi tutto il dramma di Israele e Palestina si colloca in un'altra dimensione perché lì siamo appunto tra ebraismo tradizione ebraica addirittura un aspetto della tradizione ebraica che è il sionismo qui non abbiamo tempo ma insomma ci sono c'è una corrente sionista nell'ebraismo contemporaneo ma ci sono anche grandi filosofi e grandi intellettuali ebraici che non sono sionisti che non sono stati sionisti e che hanno visto con grande timore l'insediamento di Israele il farsi stato di Israele tra i più grandi intellettuali ebraici del del novecento appunto questo timore è diffusissimo l'insediarsi no voi non avete terra dice Abramo voi siete ospiti non avete terra la terra non è vostra la terra non è vostra dice Abramo vi è un dibattito all'interno dell'ebraismo non crediate che sia tutto compatto eccetera eccetera no vi è un dibattito nel novecento e ancora oggi nell'ebraismo rispetto appunto al sionismo cioè a quella corrente dell'ebraico che ha puntato alla creazione appunto al ritorno in Israele la creazione di uno stato ebraico di uno stato ebraico ed è un dibattito da seguire con attenzione e con il massimo rispetto e con la massima reverenza una tragedia all'interno della tragedia del popolo ebraico questa però detto questo come si risolve quella questione e non può che risolversi e qui c'entra molto il discorso sull'elite politica che lei prima faceva che è un altro soltanto se l'elite politica israeliana e l'elite politica palestinese comprenderanno che la guerra non può essere posta in termini di guerra di religione perché una guerra di religione è per propria natura una guerra assoluta che può finire soltanto senza patto ma con l'annichilimento dell'avversario e quindi devono se non vogliono impostarla così e se non vogliono che la pace patto venga loro dettato che può darsi anche questo che non sarebbe positivo né per gli uni né per gli altri debbono che cosa? debbono riconoscersi in qualche modo la logica del riconoscimento è fondamentale per ogni patto è fondamentale per ogni patto perché se io non riconosco alcun diritto all'altro come faccio a stabilire un patto su che lo stabilisco o lui riconosce le mie ragioni con la forza con le buone o con le cattive ma il patto può avvenire soltanto quando io trovo un compromesso è chiaro no? è chiaro e il disastro la tragedia è che le due leadership da una parte e dall'altra si sono messe in una prospettiva che rende impossibile il patto perché se da un lato dico il mio fine è la distruzione dello Stato di Israele che patto vuoi fare? vuoi che faccia con te un patto per la mia distruzione? e se dall'altra parte c'è che i territori che l'ONU aveva detto eccetera eccetera continuo a mettere insediamenti continuo a colonizzarli e tu hai uno Stato che si riduce a una striscia di terra dove sono ammonticchiati qualche milione di persone in miseria è chiaro che tra questo Stato che confina col mio e il mio Stato tra questo pseudo Stato palestinese e lo Stato di Israele vi può essere soltanto se va bene una continua inimicizia una continua guerriglia e quindi non vi può essere patto se le due leadership ragionano e comprendano che vi può essere un patto allora è evidente in quale direzione occorre muoversi ed era la direzione in cui bene o male aveva cominciato a muoversi l'Olpi l'Arafat bene o male aveva cominciato a muoversi la leadership israeliana Belgin eccetera e che è finita tragicamente con le varie intifada vent'anni fa eccetera e da lì non si è più ripreso quel rapporto che pure si è riniziato ma vedete anche allora si è riniziato sotto il controllo diciamo degli Stati Uniti ovvio Israele tutti lo sanno è il segreto di Pulcinella Israele si regge per l'appoggio americano e quindi sono gli Stati Uniti lì che devono decidere in quale direzione andare c'è poco da fare sono gli Stati Uniti ma la situazione si sta aggravando quotidianamente certo perché poi adesso non c'è più soltanto la Palestina c'è il Libano c'è la Siria eccetera eccetera e quindi potrebbe riesplodere una situazione quale quella che abbiamo conosciuto qualche tempo fa con l'Isis ricordate? ecco potrebbe riesplodere da un momento all'altro una parola di saluto al sindaco non devo fare domande visto il successo professor Oliva di questa prima edizione a questo punto possiamo proporre la rassegna anche negli altri pressi scolastici della città ringraziando di cuore il professor Massimo Cacciari e il professor Tolone che sono qui con noi e saluto consentitemi Don Gianluca Bragalante che è un teologo della Università Pontificia che è venuto a salutare il professor Cacciari grazie viva la filosofia e al prossimo appuntamento professore mi scusi io non voglio rubare la cosa però vorrei fare un'ultima domanda e credo che sia quando la sentirete capirete perché probabilmente è giusto che sia l'ultima noi siamo qui da due ore piacevolmente stimolati dal professor Cacciari e in due ore non è stata mai pronunciata una volta una parola Africa a noi cristiani oggi fa comodo combattere una guerra per giusta causa per l'Africa o stiamo forse omettendo di commetterla o ci fa comodo che sia un posto dove si può morire senza troppo dolore e si possono estrarre materie prime preziosissime a basso costo perché va a contenere quell'aumento a dismisura della popolazione quindi queste guerre queste guerre devono includere questo paese che in questo momento sta facendo il più grosso sacrificio più grande di quello di tutti perché gli americani stanno spendendo tanti soldi i russi stanno facendo tante guerre gli americani gli africani stanno solo facendo spazio a che il mondo occidentale possa mangiare meglio distruggere meglio le proprie sostanze avere delle materie prima un buon mercato alla prossima alla prossima